Il mercato dell'auto è uno dei motori principali dell'economia italiana, un meccanismo che, specie in questo territorio, riesce a mettere in moto dei processi benefici per tutti, soprattutto se si parla dei marchi FCA. Ed è proprio in quest'ottica che dal 14 al 20 maggio prossimi a Latina aprirebbe attenti il mercatino dell'usato di AutoItalia. La concessionaria del gruppo Ecoliri in via Vespucci nel capoluogo Pontino è pronta a mettere a disposizione degli interessati un parco auto di tutto rispetto. Stiamo lanciando questa iniziativa sul territorio di Latina, che è il mercatino dell'usato. È un'iniziativa che ci ha visto già protagonisti negli anni passati sugli altri territori dove operiamo e abbiamo deciso quest'anno di lanciarla anche su Latina. Dal 14 al 20 maggio, quindi una settimana intera, compreso anche il weekend 19-20, il sabato e la domenica. Dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19, il nostro personale è a disposizione, tutti i clienti che vorranno venire a toccare con mano queste occasioni. Tante auto, molteplici occasioni e soprattutto la possibilità di poter acquistare soluzioni vantaggiose con finanziamenti ad hoc. Un ulteriore incentivo per chi ha bisogno di un'auto ma deve fare i conti con il portafogli. Oltre 350 vetture usate appunto, quindi ha dei prezzi ovviamente molto competitivi, ha delle condizioni veramente ottime perché non c'è solo la possibilità di acquistare la vettura a un prezzo particolare ma c'è anche la possibilità di finanziarla a delle condizioni particolari. Tassi agevolati, possibilità anche grazie all'accordo che abbiamo fatto con la FCA Bank di acquistare la vettura con dei finanziamenti che permettono addirittura di abbattere ulteriormente il costo di acquisto della macchina. E poi la certezza di trovare auto usate, semi nuove, chilometri zero con molteplici controlli e pacchetti di garanzia da 1 a 2 anni. Sono tutte vetture certificate, controllate, quindi che godono di una garanzia che va dai 12 ai 24 mesi, quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta, la possibilità c'è per tutte le fasce. La particolarità inoltre è che essendo un'iniziativa che si svolge sul nostro automercato di Latina è quella di poter trovare anche vetture di altri marchi, quindi vetture usate e il brand della concorrenza. Grazie a tutti.